Benvenuti al nuovo notiziario della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Iniziamo subito con le nostre notizie di ottobre 2022. Partono gli incontri d'autunno, tre serate in diretta streaming su temi di interesse generale. La partecipazione è libera e tutti gli appuntamenti saranno trasmessi dal canale YouTube della Cassa Rurale stessa. I programmi sono consultabili sul nostro sito www.cr-valsuganetesino.net Primo appuntamento il 13 di ottobre, in una serata dal titolo Il diritto in rete, La protezione dei nostri dati personali, con l'avvocato Andrea D'Ambrosio. Gli altri appuntamenti saranno Mercoledì 9 novembre, tutti a tavola, cibo, salute e longevità, con il dottor Michele Pizzinini. Giovedì 17 novembre, la rigenerazione urbana come motore di aggregazione sociale e tutela del bene comune, a cura di Dolomiti Abba. Il binomio territorio e cultura per noi è vincente. Con l'inizio dell'anno scolastico torna la banca sui banchi, con nuove proposte per le scuole, come la convenzione con le grotte di Oliero e la fondazione trentina Alcide De Gasperi, che si aggiungono a quelle già esistenti. Al meeting nazionale del gruppo Cassa Centrale Banca, a Vaprio d'Adda, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha avuto la soddisfazione di ricevere due riconoscimenti che premiano l'impegno e la perseveranza delle scelte operate in questi anni. Primo premio per le gestioni patrimoniali, secondo premio riguardante la raccolta NEF. Presenti all'evento il direttore generale Paolo Stefano Gonzo, Vania Rizzà, Stefano Pecoraro e Dezio Gaiotto. Un successo il mini contest fotografico d'agosto La tua estate su Whatsapp, riservato ai soci iscritti appunto al nostro canale Whatsapp. Sono stati premiati 10 soci per i loro scatti che hanno ricevuto un buono da 50 euro ciascuno. Si è classificata al primo posto Anna Terragnolo con questa foto di Passo Sella. Secondo posto a Daniela Pesavento con questa bella immagine dell'isola di Faveniana in Sicilia. Infine terzo posto a Federico Bilesimo con questa veduta di Feltre. Sono aperte le iscrizioni ai nostri appuntamenti in famiglia, occasioni uniche per approfondire un tema o soddisfare anche una semplice curiosità, come difendersi dalle truffe, welfare previdenziale e tanti altri argomenti a disposizione, tutti da seguire comodamente online. Basta iscriversi. Andate sul nostro sito, consultate argomenti e calendario. Grazie per l'attenzione e a presto!